Cari amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara Penne, oggi siamo molto lieti di ospitare un amico di Radio Speranza, che è Mirko De Calli, del popolo della famiglia. Mirko, ogni volta che si trova qui dalle nostre parti a Pescara, ci chiama e ci dice quando posso venire a Radio Speranza, vero Mirko? È un grande piacere Massimiliano essere qui con voi, vengo sempre a trovarvi con entusiasmo perché poter condividere con voi il cammino che stiamo facendo significa rafforzare le ragioni di questo percorso che ci porta come popolo della famiglia a portare una parola di speranza appunto in giro per l'Italia. Ecco, tu giri molto il nostro paese, ti vediamo anche sui social, insomma sempre da qualche parte, sempre in lotta come dici tu, vero? Esatto, sempre in lotta perché credo che la grande forza dei cristiani oggi sia quella della testimonianza, quindi abbiamo un compito principale che è quello di costruire una presenza che sia portatrice della parola del Vangelo. Oggi tra l'altro per voi è la festa del Patronio, quindi auguri a San Cetteo ed è importante che viviamo la parola anche dentro all'ambito della politica con intelligenza, senza preoccuparci del consenso perché quello arriverà quando il tempo è la misura con cui Dio si manifesta nella storia, quindi lo decide lui, ma dobbiamo avere la certezza di fare il compito per il quale siamo stati chiamati a fare. Il buon Dio mi ha dato questa vocazione che si chiama politica e quindi cerco di farla dando tutto me stesso, insomma, quindi sempre in lotta. Tra l'altro qualcuno diceva che la politica è il più grande servizio di carità che si possa fare, vero? Beh, Papa Paolo VI ha avuto la grande lungimiranza nel suo pontificato di spiegarci che la politica è la forma più alta ed esigente di carità. Ed è vero, se pensi oggi a far politica significa stare appresso al bisogno delle persone. Papa Francesco sta facendo un lavoro straordinario in questo, ci sta proprio educando a inginocchiarci. Una cosa che ho imparato da ragazza quando ero all'università e mi ha affascinato sempre era quella che Giussani chiamava la posizione con cui il cristiano deve stare davanti al mondo, quella del mendicante, cioè di stare davanti al mondo, inginocchio e servire l'umanità che hai davanti a te. E di fatto è quello per cui ho cominciato a fare politica quando avevo 13-14 anni, cioè vedevo l'altro e mi affascinava l'altro e quindi volevo immedesimarmi con lui e ho scoperto che un modo vero e autentico di farlo era servire l'altro, quindi fare politica. Ecco, in questi giorni in cui è in preparazione la manovra economica, si è parlato di questo assegno per le famiglie e poi alla fine abbiamo scoperto che probabilmente non ci sarà l'ennesima delusione, vero? Esattamente, ieri Nadef che è il documento con cui si aggiorna, nota di aggiornamento al documento di economia e finanza purtroppo ci ha regalato una brutta sorpresa che è quella di non aver visto quello tanto decantato da amici che si sono spesi con coraggio io ho incontrato quest'estate l'amico Gigi De Palo il quale era fiducioso sulla possibilità appunto che arrivasse l'assegno unico noi naturalmente abbiamo visto con favore qualsiasi misura che andasse a favore della famiglia anche questa volta abbiamo trovato neanche le briciole sotto al tavolo come dico io perché questa volta proprio non c'è nulla riguardante la famiglia si prende un impegno vago come il precedente governo aveva fatto nel corso dei prossimi tre anni di rimodulare tutti quelli che sono gli interventi economici a favore della famiglia in un'unica misura economica credo che come sempre purtroppo la famiglia dai governi vari e questa volta è Renzi che lo fa in questo governo venga usata come etichetta per cercare di avere qualche consenso dal mondo cattolico purtroppo ci accorgiamo poi col passare dei mesi che la gente ha bisogno di politica che dà soldi di politica che dà leggi di emancipazione della donna, di emancipazione della famiglia, della donna che fa figli per quello noi abbiamo proposto il reddito di maternità che è la forma più alta di emancipazione femminile che ci possa essere perché vuol dire che la donna è libera di scegliere se fare la mamma, se fare la lavoratrice madre o se fare la lavoratrice basta oggi purtroppo può scegliere spesso solo di fare la lavoratrice perché le condizioni per fare le altre due cose non ci sono purtroppo non c'è una cultura della famiglia al governo si continua a usare la famiglia per avere voti ma poi quando si va al governo si pensa ad altro e il dramma oggi è che vediamo perdere tempo sulle merendine, perdere tempo su un euro in più al biglietto aereo o altre assurdità ma adesso solo zucchero addirittura vedi io che non sono un magrolino quindi la cosa mi colpisce particolarmente beh anche io amo lo zucchero nonostante sia magro però dico sono assurdità perché il problema della politica di oggi è che è sconnessa dalla realtà cioè il fatto che oggi è fondamentale è che il politico debba immergersi nella realtà per poter cercare di fare qualcosa di buono parlare di queste cose come hai detto tu vuol dire stare fuori dalla realtà perché oggi il problema delle famiglie è che non arrivano più alla terza settimana non alla quarta settimana allora vogliamo renderci conto che è necessario e urgente fare un piano nazionale per la famiglia così l'abbiamo chiamato noi una serie di misure nella nostra assemblea nazionale abbiamo predisposte dieci non dico prendiamole tutte dieci prendiamone una partiamo da quelle ci aspettavamo che la ministra Bonetti uscisse almeno con un intervento sulla famiglia niente neanche due spiccioli in più da mettergli in tasca per di più insomma si dice da molte parti che in realtà saranno altre realtà che non c'entrano molto con la famiglia a beneficiare di interventi vero? come sempre come sempre purtroppo perché poi il problema è che si confonde famiglia con ciò che non è famiglia noi non siamo per nessun atto discriminatorio nei confronti di nessuno o ci mancherebbe altro però bisogna riconoscere ciò che è l'articolo 29 della Costituzione purtroppo ancora una volta c'è il pericolo e io lo dico ripeto non con i toni catastrofici che non mi appartengono perché la politica vuol dire uso della ragione e del buonsenso ma c'è il pericolo dell'agenda Cirinà non ce lo dobbiamo dimenticare forse molti di voi non sanno la Cirinà è quella che ha portato il nome della legge sulle unioni civili ed è colei che vuole portare avanti un'agenda di interventi governativi tesa proprio a sfasciare l'impianto delle leggi italiane che oggi favoriscono per quel che è possibile con molti limiti e con molte limitazioni la famiglia che fa figli pensiamo a quelli che sono i diritti che hanno le donne o i diritti che hanno acquisito le lavoratrici o i genitori nella loro vita anche di riconoscimento economico nel caso in cui hanno figli per allargare questa base a tutto il mondo LGBT cioè il mondo arcobaleno ricordiamoci che quando una cosa è uguale per tutti vuol dire che poi verrà negata a tutti perché i soldi non ci saranno più per garantirla a tutti come sempre è stato si cerca di allargare la base per poi dire non abbiamo i soldi per pagarla per nessuno la togliamo a tutti quindi la tolgono poi anche le famiglie non sarebbe invece più utile se la politica magari decidesse di incontrare le associazioni che rappresentano le famiglie e concordare con loro delle misure anche a livello locale ma guarda io penso che e tanti vescovi lo hanno detto anche un ultimo bellissimo contributo di Monsignor Brunoforte in questo senso è secondo me stato positivo ovvero quello di partire dalla politica dei territori cioè partire dalla base a livello nazionale purtroppo le lobby hanno contaminato ogni tipo di riflessioni io vedo le associazioni come il forum delle famiglie o altro che fanno attività di pressione di lobby come la chiamano loro o penso al comitato difendiamo i nostri figli ma non ottengono nulla purtroppo perché rispetto alle altre lobby che mettono soldi mettono potere queste lobby non possono portare altro che una mera testimonianza allora noi dobbiamo renderci conto che bisogna costruire dai territori dai territori bisogna avere il coraggio attraverso un'interlocuzione intelligente con quelli che sono le società civile intesa in maniera larga e cercare di costruire prassi politiche nuove perché poi quando va in giro queste lobby nei territori non esistono se noi andiamo in giro faccio un esempio a Pescara oggi oltre il 99% dei pescaresi vive in formato famiglia mamma, papà, bambini non troviamo quelle famiglie diciamo della legge Cirinna che sono qualche migliaio in tutta Italia allora poi ci rendiamo conto che i soldi, i servizi quelli che pagano anche questi servizi perché poi i servizi si pagano con le tasse di chi lavora non è che li paga qualche d'uno che non esiste lo pagano le famiglie che lavorano dobbiamo avere il coraggio di dire questi soldi e questi investimenti quindi sosteniamoli per le famiglie ti faccio un esempio mi fanno sempre l'attacco Repubblico o altri mi dicono ma tu pensi alla famiglia non pensi ai soli, agli svantaggiati e no invece perché oggi le persone sole da noi Romagna si chiama lo zione cioè quella persona che aveva scelto di rimanere in casa di rimanere singolo o altro da noi Romagna si chiamava così chi è che lo aiuta oggi se perde il lavoro o se ha una difficoltà? la famiglia perché lo Stato non lo può aiutare non ha nessuno strumento reale al di là della questione del reddito di cittadinanza che è emersa nell'ultimo anno per dargli un sostegno allora invece che massacrare la famiglia che non aiutarla ma scusiamo un attimo facciamo welfare il welfare lo fa la famiglia aiutiamo le famiglie e quindi insomma forse una politica anche un po' più concreta servirebbe vero? ma assolutamente sì io ti faccio un esempio pratico cioè quando noi parliamo di due cose reddito di maternità e fattore famiglia per fare un esempio pratico reddito di maternità cosa vuol dire? abbiamo raccolto 60.000 firme coraggiosi militanti del popolo e della famiglia sotto il ghiaccio e la neve abbiamo raccolto 60.000 firme per questa proposta di legge forse molti che ci ascoltano hanno anche firmato nei vostri banchetti o gazzia vuol dire riconoscere alla donna che sceglie di fare la mamma a tempo pieno un'indennità per quel lavoro che è il lavoro più bello del mondo il che non vuol dire come dicono i nostri avversari voi volete la donna che sta a casa a fare la mamma e non la lavoratrice assolutamente no perché questo non vuol dire non produrre leggi per la conciliazione lavoro-famiglia che devono essere sviluppate gli asili nido-aziendali e tante altre cose ma vuol dire che se una donna sceglie di dedicare la vita alla maternità come servizio per la sua famiglia e per il mondo intero perché quello è un bene per tutti non è solo un bene per la famiglia lo Stato la deve riconoscere non come una casalinga a cui da zero euro ma come un soggetto che fa un bene collettivo per cui merita una indennità riconosciuta dallo Stato e che genera poi produttività economica se noi facciamo anche la riforma fiscale che so che costa non è che mi invento niente però costa all'inizio ma nel medio-lungo periodo avremo dei grandissimi risparmi perché ci sarebbero più entrate poi fiscali perché aumenta il tasso di natalità aumentano i consumi e quindi il gettito fiscale aumenterebbe cioè più figli hai meno tasse paghi che è lo slogan con cui siamo nati ovvero tu paghi le tasse in base alle bocche da sfamare oggi non è così oggi abbiamo me lo ricordo quando ho fatto alcune conferenze sono questi commercialisti che dicono ai genitori non fate la dichiarazione insieme come Stato di famiglia fate uno Stato di famiglia con disgiunto in modo che prendete più assegni familiari sarà mai uno Stato moralmente e culturalmente a favore della famiglia? no, è contro la famiglia dobbiamo cercare di far sì che più bocche da sfamare ci sono meno tasse si pagano e quando una famiglia ha 4-5 bocche da sfamare la tassazione fiscale deve arrivare a zero perché quella famiglia fa dei sacrifici che sono non solo per lei ma per la comunità intera perché quei 4 figli che magari quella famiglia ha fatto saranno 4 lavoratori saranno 4 teste che sperando che rimangono in Italia genereranno benessere per tutti gli italiani pagando le tasse e lavorando ultima domanda il popolo della famiglia oltre che in Italia è presente anche in Europa anche se non specificamente nel Parlamento Europeo però sappiamo che misure simili a quelle di cui abbiamo parlato in qualche altro paese europeo anche importante esistono è vero? tutto chi il tasto più importante quest'anno il mio cantiere Italia sarà dedicato all'Europa prevalentemente perché dopo le europee il mio impegno anche nel Partito Popolare Europeo continuerà attivamente ovviamente credo che la vera dimensione del nostro impegno sia l'Europa perché abbiamo da portare questa parola di speranza dentro al continente europeo voi sapete penso di averlo detto nelle altre interviste il rapporto che mi lega con l'esperienza di Viktor Orbán e quindi Fidesz l'esperienza straordinaria del governo ungherese per me oggi la luce arriva dall'Est la canzone di Battisti che adoro è una canzone meravigliosa l'Est oggi è foriero di speranza per l'Europa intera non solo grazie alla cultura ortodossa che sta comunque portando tanta bellezza di testimonianza anche liturgica nel nostro occidente che è un attimino in crisi anche vocazionale secondo me ma poi soprattutto anche perché ci sono governi che sono dentro la famiglia del Partito Popolare Europeo che è la nostra famiglia che è la famiglia del popolarismo di De Gasperi del popolarismo di Don Luigi Sturz eccetera che sono capaci di realizzare quello che diciamo noi quando io ho parlato dopo l'Europa di piano nazionale per la famiglia non ho parlato di una cosa astratta perché è facile buttare lì delle cose quando sento Renzi Salvini piano da 100 miliardi piano per la famiglia adesso Renzi deve proporre il piano industriale forse dicono piano piano cioè è facile buttare lì delle cose ma andiamo a vedere chi ha governato e le fa Orban ma come la Croazia ne parlavamo anche prima o altro Orban ha fatto sette misure per la famiglia dove per esempio incentivi per le auto incentivi per la casa mutui, sostegni, finanziamenti redditi eccetera per cui oggi qual è il risultato di questa serie di politiche tra l'altro votate con referendum quindi ha chiesto ai cittadini se erano d'accordo e i cittadini hanno votato concordemente a quanto proposto dal governo un tasso di natalità che viaggia oltre il 2,5% di figli in media per coppia che è uno dei più alti in assoluto in Europa e al mondo un PIL che viaggia sopra il 3% l'Italia è a zero quasi rischio recessione col PIL e ha un tasso di piena occupazione per cui in accordo con le associazioni di categorie locali ha deciso di non accogliere i migranti ma non perché non vuole che i migranti arrivano perché nel suo territorio i posti di lavoro sono occupati dagli ungheresi non è il problema che noi italiani abbiamo per cui mi sento Farinetti ieri sera intervistato in televisione che dice dobbiamo accogliere centinaia di migliaia di migranti perché se no non abbiamo le persone da far lavorare nelle nostre aziende perché gli italiani non fanno più figli ecco l'Ungheria questo problema non ce l'ha perché ha programmato un'azione di sostegno alla famiglia che fa figli da circa 6-7 anni e i frutti cominciano a esserci oggi io non voglio fare e concludo Massimiliano non voglio aprire la grande ferita dello scontro ideologico sul tema dell'immigrazione io condivido la linea della chiesa condivido quello che è un pensiero intelligente di accoglienza ma dentro a quello che è un forte sostegno alla famiglia che fa figli non si può pensare che l'immigrazione debba essere lo strumento con cui sostituire il fatto che la famiglia italiana non faccia più figli non è così aiutiamo le persone che hanno diritto d'asilo stiamogli vicino facciamo accoglienza fatta come si deve come altri paesi la fanno evitiamo scontri ideologici su questo tema che non fanno bene a nessuno però non consentiamo che i migranti diventano lo strumento per aiutare le aziende a pagare meno il lavoro a fare uno scontro di povertà nel nostro paese tra poveri italiani e poveri stranieri e a far sì che le famiglie italiane non siano aiutate a fare figli perché tanto ci pensano gli stranieri così non funziona perché così si perderà una cultura una storia una tradizione che ha mille mille anni di vita ma soprattutto un paese che potrebbe avere un futuro ma che lo vuole abbandonare perché ha perso appunto la speranza grazie a Mirko dei Carli del popolo della famiglia Mirko torna quando vuoi a trovarci grazie abbraccio aperte e grazie a te a voi dell'accoglienza come sempre calorosa grazie e a risentirci grazie a te grazie a te